A livello comunale sono nati dei progetti, però ripeto, il tema vero è che una forza politica come il Movimento, io sono stato nelle piazze quest'ultimo weekend, c'è tanta gente che mette energia in quello che facciamo sui territori, deve riuscire a gestire bene i territori, deve essere in grado a livello istituzionale di portare ai tavoli il peso contrattuale. Io sto pensando a fare il Ministro degli Esteri, non sto pensando al mio futuro da leader di forza politica, però chiederò al Movimento di prendere delle decisioni importanti perché come diceva lei ci sono anche dei temi di rimenti da affrontare.